Qualità da tenere d'occhio, qualità che vediamo immediatamente, lo vedete spostarsi dalla solita mattonella, venire incontro, provare a dare un senso, se vogliamo, verticale alla manovra, ma invece quello che secondo me è il vero difetto di questo giocatore è un po' la mancanza di... Ci ritroviamo a parlare di Juve, squadra molto attiva in questi ultimi giorni di mercato perché prepara quest'operazione quasi in Little Diff, in sordina, portando a casa un nuovo centrocampista, cioè il caro Carlos Alcaraz, prelevato direttamente dal Southampton, giocatore argentino che può essere interessante, già descritto in maniera fantasiosa sia su YouTube che su vari organi di stampa, Per quello che sono riuscito a vedere e ragazzi vediamo effettivamente che tipo di profilo è, vi dico che anche in questo caso è un profilo che ho analizzato per lavoro qualche anno fa, l'ho continuato a seguire e vediamo se può cambiare effettivamente la faccia del centrocampo bianconero E per farlo come sempre ragazzi ci affidiamo alla nostra amatissima lavagna tattica, quindi centrocampista, vi anticipo, piede destro di 1,83m, quindi abbastanza alto, che però tende a giocare sulla catena di sinistra, quindi si ritrova spesso a piede invertito durante le manovre, ma devo dire che in quel tipo di contesto si trova abbastanza a proprio agio. Un giocatore che a me piace per una serie di fattori, innanzitutto per movimenti senza palla durante la fase di possesso, un giocatore partecipe che come vediamo in questo esempio abbandona spesso la propria mattonella per provare a ricevere palla, per poi dare in là alla manovra, quindi giocatore che anche dal punto di vista tecnico secondo me sa il fatto suo, successivamente vedremo qualche dato, qualche statistica, Ma vi dico che per quanto riguarda i passaggi, soprattutto durante la fase di sviluppo della manovra, è un giocatore che sicuramente ci sa fare, prova a dare spesso un senso alla manovra, non sempre oggettivamente ci riesce, ma comunque dal punto di vista tecnico ha un certo tipo di personalità, quindi la ricerca degli osservatori della Juve secondo me è stata specifica. E a proposito di ricerca di osservatori, se volete anche voi fare questo di lavoro, diventare osservatori in match analyst e data analyst, vi ricordo che per il prossimo mese abbiamo gli ultimi posti liberi, circa 5-6 per quanto riguarda formazione in ambito match analysis, scouting e data analysis. I nostri corsisti oltre a studiare hanno accesso poi ad offerte di lavoro nel mondo del calcio, accesso a programmi professionali, accesso a corsi di aggiornamento con i protagonisti del settore, mi raccomando ragazzi se vi va vi aspettiamo, trovate tutti i link qui in basso. Ma come dicevo, personalità dal punto di vista tecnico, secondo me qualità da tenere d'occhio, qualità che vediamo immediatamente, lo vedete spostarsi dalla solita mattonella, venire incontro, provare a dare un senso se vogliamo verticale alla manovra giocata che sicuramente cambia l'economia dell'azione. Quindi durante la fase di possesso secondo me un giocatore quantomeno interessante, ma ovviamente io già so che qualcuno avrà letto le statistiche, qualche gol lo fa, qualche assist lo fa, ripeto poi approfondiamo le statistiche per quanto riguarda i gol. Vi dico che è un giocatore di nuovo partecipe, che durante la manovra si fa vedere, spesso a piede invertito, quasi giocando sulla sinistra, prova il tiro ad incrociare i suoi gol durante questa stagione, li ha messi a segno, ma di nuovo magari non mi affiderei troppo al gol di questo centrocampista, ma sicuramente terrei d'occhio il contributo che di nuovo offre senza palla. Quasi un po' come McKennie, che magari il gol lo fa, ma che comunque si dimostra partecipe, quindi giocatore che rimane nel vivo della manovra anche quando non ha la palla tra i piedi. Anche in questo caso azione per capire un po' di cosa stiamo parlando, lo vedete appunto seguire la manovra, raccogliere questo passaggio per poi segnare in maniera comunque abbastanza facile. Ripeto, non affidatevi troppo al gol di questo centrocampista, non pensate, è arrivato un uomo che porterà tanti gol, piuttosto è arrivato un uomo che partecipa, poi il gol ci può scappare, ma occhio, non sempre. Vi faccio vedere anche una breve slide per quanto riguarda il contributo durante la fase di non possesso, anche qui devo dire che non è un vero e proprio mastino, è sicuramente un giocatore sudamericano, il fatto suo lo fa. Qui vediamo una corsa senza palla a rincorrere l'avversario, intercetta la palla, ma di nuovo magari è importante non aspettarsi, che ne so, una sorta di nuovo Vidal, perché è un giocatore che difende, ci mette la gamba, partecipa, ma di nuovo secondo me non eccelle per quanto riguarda le caratteristiche difensive, ma invece quello che secondo me è il vero difetto di questo giocatore è un po' la mancanza di consistenza, a volte è un po' lento, a volte si fa delle passeggiate, come ci suggerisce la traiettoria rossa di questa conduzione di palla del caro Alcaraz, a volte secondo me tende a ritardare troppo la giocata, è un giocatore efficiente quando gioca a 2-3 tocchi, lì Allegri in questo caso l'allenatore deve essere bravo ad indirizzarlo verso uno stile di gioco magari un po' più rapido, perché vedete anche il giocatore avversario che ha tutto il tempo di rientrare per poi concludere la giocata in questo modo, lo vedete lì, tenere questa palla, magari un appoggio ce l'ha, ritarda la giocata e contropiede innescato. Questo è sicuramente un esempio, ma ragazzi vi assicuro che lo conosco da tanto e tende a fare questo tipo di errore. Come dicevo però vi faccio vedere qualche dato per contestualizzare ancora di più in profondità questo tipo di centrocampista. Parliamo comunque di un classe 2002, 21 anni, ha il tempo per migliorare, per crescere, poi la Serie A, che piaccia o no, è un campionato allenante. Per esempio argentino, lo sappiamo, vi faccio presente il numero di presenze durante la stagione 23-24 con il Southampton, tra campionato e coppe varie, 26 presenze, 4 gol, quindi sicuramente un numero positivo, un solo assist, precisione dei passaggi, come vi dicevo, un numero secondo me alto, 82.9% di precisione dei passaggi, quindi della precisione ce l'ha, però attenzione ai passaggi chiave per partita, che sono solo 0.7 ovviamente in media, quindi sì, tanta precisione nei passaggi, ma forse a volte un po', ripeto, di mancanza di consistenza per quanto riguarda i passaggi chiave, l'ultimo passaggio, un solo assist, quindi non un numero esaltante, ho sentito anche parlare di grande tecnica, giocatore veramente tecnico, un dribbling in media, tentato per partita, lo stesso per quanto riguarda gli interventi, in media per partita 1.3 tackles, come direbbero in Papua, nuova guinea, quindi numeri che fanno notare questa mancanza di consistenza di cui sto parlando durante il video, un giocatore che, lo dico sinceramente, a me piace, però con le giuste aspettative, può essere molto utile a partita in corso, molto utile in un certo tipo di partita, un giocatore che, lo vedo bene sicuramente alla Juve, ma occhio nella giusta dimensione. Per quanto riguarda la Hitman, vediamo un po', come vi dicevo, che la mattonella che tende a calpestare è quella nel centro-sinistra, magari in una zona più offensiva, rispetto a quello che è il contributo difensivo, quindi un giocatore che, secondo me, ragazzi, è di un certo livello, buono, magari anche alto, ma non sicuramente altissimo, ha tempo di crescere, ha tempo per migliorare, ma, come ben sapete, questa è solo e soltanto la mia opinione. Vi aspetto, come sempre, qui in basso nei commenti per magari conoscere le vostre aspettative e sicuramente le vostre letture. L'analisi di oggi finisce qui, come sempre spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e condividetelo se vi va, è stato un piacere enorme passare questi minuti con voi, un salutone ed al prossimo appuntamento. Non ho fatto la battuta sul tennis perché l'avranno fatta tutti, però a me piace, occhio però ad aspettarsi il giusto. Se migliora però e diventa costante, occhio, occhio.